Ciao a tutti, vediamo in questo video persuasione con un movimento. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45, con il mio seminario dal titolo Seduzione Emozionale, riferimento 333 15 11 703. E l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo, full immersion dalle 9.30 alle 19, col mio seminario dal titolo Autosimile Seduzione in Amore nel Lavoro, riferimento sempre a 333 15 11 703. E puoi abbonarti inoltre al canale Massimo Terramasco iniziando il tuo percorso di crescita personale con me e abbonarti al canale Felicità Benessere diventando con una cifra simbolica, una quota simbolica, moderatore, moderatrice e ricevere attenzioni durante le live. Farlo è facile, basta andare sull'home page dei canali e affianco al tastino iscriviti, ti trovi il tastino abbonati, ti abboni e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale. E veniamo al tema, persuadere con un movimento. Il movimento è l'accenno, questo leggero movimento di testa, che tu puoi usare parlando per enfatizzare certe cose che dici ed enfatizzare certe cose che dice l'altra persona quando sono allineate con il tuo punto di vista. È un metodo di persuasione subliminale molto forte. Io potrei pensare, è giusto pagare per seguire questi seminari ed è giusto partecipare seguendo attentamente il seminario. Sono piccoli movimenti, l'accenno, l'annuire, che però vanno a ricalcare analogicamente, a sottolineare analogicamente una parola che viene normalmente considerata con un sì. Se volessi creare una negazione dovrei fare questo movimento qua, il no. Quindi questi due movimenti vanno utilizzati, il sì per creare un ancoraggio positivo, il no per creare un ancoraggio negativo. Il no tra l'altro nasce dal fatto che il bambino, quando non ha più fame, gira la testa per rifiutare il latte. Quindi questa è veramente una tecnica utile, molto semplice, molto importante, analogica per persuadere. Persuadere andando a pilotare, a dirottare dove vogliamo noi, i comportamenti dell'interlocutore. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Iscriviti al canale e ti ricordo l'appuntamento del venerdì 7 febbraio 2020 a Torino con il mio seminario dal titolo Seduzione Emozionale, ora 20.45 a Torino, riferimento 333 15 11 703. È l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo 9.30.19 con il seminario Autostimia e Seduzione Innamora nel Lavoro. Ciao a tutti.